e bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi parleremo ancora del pacchetto psycho per quanto riguarda borderlands 3 molta gente sta dicendo ah ma se compro borderlands 3 ricevo anche 2000 vbac no ragazzi i vbac non ci stanno in questo pacchetto vi faccio vedere intanto qui su ps4 come riscattare questo pacchetto che vi darà la skin vi darà il backpack e i picconi sono due picconi come potete vedere per quanto riguarda il bundle pack psycho potete riscattarlo direttamente da un cellulare o da pc tramite epic game non potete praticamente scioppare solamente il gioco borderlands ovviamente da ps4 non potete dovete prima andare a scioppare il gioco borderlands 3 come potete vedere qui io sto facendo da epic games launcher troverete il gioco borderlands 3 io lo devo ancora installare già ce l'ho ovviamente pacchetto psycho anche sulla ps4 senza problemi come potete vedere io ce l'ho già qua non ho dovuto fare niente comunque se avete un pc un portatile diciamo fate prima eccolo qua premete qua e poi lo installate scegliete dove installarlo eccetera eccetera vi faccio vedere un po com'è ma penso che già lo conoscete psycho ecco qua il backpack e poi i due picconi i due picconi praticamente sono due asce a sega niente ragazzi vi consiglio di comprare il gioco e poi anche il codice per riscattare la skin magari poi ritornerà anche nel negozio oggetti la skin non so comunque noi ci vediamo un prossimo video vi ricordo di lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale bella a tutti